San D'Antonio ma scritto ogni anno è tradizione del carnevale fare l'annunciazione ma oggi il tempo è stato assai piovoso e il mio cavallo l'ho lasciato al riposo ora sono qui in questa stalla a cercare una delle vedove o forse una cavalla ma non temete non vi scoraggiate gente a carnevale il tempo sarà clemente vi aspettiamo piccoli grandi e piccini alla sfilata dedicata al registo Federico Fellini nel segno di quest'acqua benedetta la nostra adesione a Cristo Signore è il fondamento della nostra salvezza chi veniva in paese a fare le propagini? chi era il protagonista, è il protagonista delle propagini? l'uomo di campagna, il massaio che con la sua compagna veniva il giorno di Santo Stefano a festeggiare il santo ma anche a prendere in giro il potere noi stasera abbiamo voluto in un certo modo riprendere questa tradizione questo connubio tra campagna e paese e questo connubio tra il carnevale e la campagna e siamo venuti a festeggiare questa giornata particolare nel senso che comunque questo carnevale si sta rinnovando più che rinnovando il rinnovamento è proprio nella formula con cui questo carnevale si propone ed è la prima volta in assoluto che un carnevale adotta un tema unico che praticamente unisce il lavoro di sette gruppi che producono i nostri ormai celebre radicali sono opere di alto valore artistico ed era giunto il momento di sottoporre i nostri grandi catapestali da una prova di impegno presentiamo il carnevale il carnevale che quest'anno è cortissimo e perciò affannato perché ci sono tante cose da fare ma le abbiamo messe tutte insieme e siamo pronti siamo pronti con questo carnevale dedicato a Federico Fellini carnevale sull'onda dell'innovazione e ho scoperto in questi giorni che il nostro sindaco è ormai specializzato nel trovare questo connubio tra tradizione e innovazione scettico quando il presidente mi ha detto di questa idea di presentare il carnevale quest'anno qui in realtà si sposa benissimo proprio per quello che ha detto già Franco Laera con la nascita del carnevale si sposa benissimo con quello che noi sia la fondazione ancora di più l'amministrazione ormai da tempo stiamo facendo è quello cioè di promuovere il territorio le sue grandi ricchezze e le capacità che i nostri concittadini hanno magari non sempre ne sono consapevoli di promuovere i prodotti del nostro stesso territorio allora questo luogo che come ci è stato anticipato diventerà un caseificio aziendale moderno rispettoso di tutte le norme ovviamente che l'ASL impone e quindi sulla sicurezza per la produzione degli alimenti eccetera in un contesto così bello e così antico non so a quando risale ma certamente qualche secolo fa in un certo qual modo ci fa respirare e ci dà la concretezza di quello che significa tradizione e innovazione fare in modo che la nostra industria, quella del turismo e quella agroalimentare, quella eno-agroalimentare credo che sia un'industria sulla quale possiamo puntare con grande efficacia e dove c'è questo tipo di industria ci vuole anche una caratterizzazione del territorio perché il patrimonio è essenziale per queste attività e quindi ci vogliono manifestazioni come quella del carnevale di Colina sicuramente l'unica manifestazione oltretutto manifestazione di rilievo regionale e nazionale è il riconoscimento del quale parlava il sindaco il patrimonio d'Italia lo testimonia ampiamente appunto una manifestazione che segna finalmente un passaggio importante che è quello di far concentrare in un territorio ampio e quindi premiante anche per attività come questa in un momento in cui il turismo per la Puglia è estremamente favorevole